Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dei nostri gamberetti episode numero 35 Signori, allora oggi dobbiamo cercare di tornare alla vittoria per forza perché l'ultima partita Non mi ricordo più che cosa abbiamo fatto, se non sbaglio abbiamo, 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 dove siamo noi? Siamo qua, abbiamo perso 3-1, ecco ricordavo bene che è stata una partita di marmellata praticamente Una partita decisamente brutta, lo ricordavo Signori, prima di partire col video di oggi però io vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggeriti e per il supporto che date alla serie e al canale Vi ricordo di iscrivervi sui social, mi trovate come maullo941 sia su Instagram che su Facebook Dove tramite appunto i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando stiamo in live Sia su questa piattaforma che sull'altra di solito, mi ci trovate alle 9, 9 e un quarto qui su YouTube Ultima cosa, non meno importante, in descrizione trovate vari link per le varie azioni Ovvero abbonarvi, donare i link dei social su cui seguirmi E i link dei canali che sono abbonati al mio canale Che hanno preso questa promozione diciamo Detto questo signori, non perdiamo altro tempo che stiamo chiacchierando fin troppo E ci vediamo e facciamo partire il video Allora signori, sto sistemando la formazione perché dobbiamo scendere con i migliori in campo E cercare di riportare 3 punti possibilmente più velocemente possibili a casa nostra La grives ha giocato bene, però torna Clark A posto di lavandina facciamo giocare Davis Vastella fuori per Mellor E Stevens fuori per Mel Gibson Spike lo facciamo riposare per l'orei E va bene così, facciamo cambia e cambia, cambia e cambia Ci portiamo Kanté, Moon, McGree Steven Zelladino, va bene Va bene così signorini Informazione è pronta Andiamo a giocare contro, 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 contro Contro il Barton Che è 23esimo, signori Contro il Barton, dobbiamo portarci per forza i punti a casa Ci siamo signori, partiamo noi Da sinistra verso destra I nostri camberetti devono riuscire a tornare Subito lo zio, guarda, guarda L'ho tenuto una partita in panchina e guarda come parte subito gasato Incredibile lo zio, lo zio, lo zio Carichissimo lo zio, bravissimo che si fa ancora vedere Guardalo, guardalo No, mi sbagliato l'ultimo passaggio zio Mannaggia a te zio, mi hai sbagliato l'ultimo passaggio Hai fatto tutto benissimo Questo fa le rovesciate al centrocampo Aveva stoppato la palla, era da solo E ha fatto una gran cretinata Va bene, bravo Giardino, bravo Giardino Dai, 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 signori Attenzione a loro, attenzione a loro Cerchiamo di fermarli No, 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 signori Non possiamo avere questi buchi difensivi però Dai Impressionante Gol di Vernon Non possiamo avere questi buchi difensivi Dai 1-0 per il Barton 1-0 per il Barton Dopo 8 minuti Gara tutta in salita Abbiamo partiti con l'acceleratore sparato Con lo zio Salli Che aveva fatto Grandissimo lo zio Subito Si prende la scena Lo zio, lo zio, lo zio, lo zio Salli Lo zio Salli, lo zio Salli Lo zio Salli, lo zio Salli Guardalo, 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 girati Gira di attira, gira di attira Nooo Attenzione, ancora loro Ancora loro Attenzione, attenzione Chiudiamo su quella fascia Mamma mia Gran bella chiusura Gran bella chiusura Calcio d'angolo per loro Buttiamo fuori sta palla signori Vediamo di ripartire Buttiamo fuori sta palla Vediamo di ripartire Mamma mia Che caccia d'angolo brutto Va bene per noi Dai Stoccon Dai Stoccon Ripartiamo Dai Stoccon Ripartiamo Testa basta e pedalare Testa basta e pedalare Corri Stoccon Corri Stoccon È tutta tua questa azione È tutta tua Ti sta allargando un po' troppo zio Ti sta allargando un po' troppo zio Bravo Così che rientra Rientra bene Rientra bene Nooo Nooo Guarda loro come sono ripartiti In contropiede Guarda loro come sono ripartiti In bombotire Il nostro Clark Kent Fa la cretinata più totale Sono entrati in aria Mamma mia Stavano per scendere i santi Signori Stavano per scendere i santi Però va bene Wilding Guarda lo zio Guarda lo zio Salli Guarda lo zio Salli Vattene zio Vattene zio Vattene zio Vattene zio Su quella fascia governi tu Vattene zio Fermati zio Per un do cazzarola vai Troppo deciso Grande zio che rientra Grande zio che rientra Dai 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 così È buono È buono 1-1 Stoccon La pareggia lui La pareggia lui La pareggia lui Grande Stoccon 1-1 Dai così Dai così Dai così L'importante era pareggiarla Subito O quasi subito Perché non siamo riusciti a pareggiarla subito Però l'importante era pareggiarla Quasi subito Signori Dai 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 Grandissimo Mellor che recupera una gran palla Vede Wilding 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 Al centrocampo per Stoccon L'autore del pareggio Stoccon 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 Signori Su quella fascia Quando gioca lo zio Non ce n'è per nessuna Lo zio Lo zio Lo zio Guarda dal centro Bello 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 No Gli ha tirato in bocca Il nostro ragioniere oggi non è in giornata Signori Il nostro ragioniere oggi non è per niente in giornata Dai Dai Grandissimo Sullivan Manda fuori giri L'arversario Riusciamo a ripartire su quella fascia ancora Dai 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 zio 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 No Ok Dai 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 Alla dino Dai alla dino Che su quella fascia non scherza nemmeno lui Dai alla dino Ti potevi prendere il fallo Infatti si è preso il fallo Bravo alla dino Bravo alla dino Che si è preso il fallo Giocola lì Con calma Con calma Con calma Giocavamo la con astuzia Sullivan Che si fa vedere anche lì al centrocampo Kainon 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 Che si allarga Kainon Kainon Grande Guarda gli spazio Guardalo 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 Lo zio Lo zio Salli La pareggia Lula No La sbrocca Lui Lo zio Salli 2 a 1 Non ha fatto altro Il primo tempo Che dare palloni a tutti Signori Primo pallone che arriva Lui è disponibile Disponibile Gran Gran Sinistro Mamma mia Come l'ha bucato Grande zio Salli Grande zio Salli 2 a 1 Signori 2 a 1 Vediamo di non creare Di non fare stupidaggini Signori E teniamo il risultato Attenzione Stoccon 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 Se ne va Stoccon Si allarga un poco Troppo Però va bene Prende spazio Prende spazio Allarga il gioco Rientra Stoccon Rientra Stoccon Che vede Che vede il ragioniere Che vede Wilding Che la chiude Signori La chiude Wilding La chiude lui Che dà una testata A banderina Va bene così Bravissimo il ragioniere Bravissimo Stavolta il ragioniere Le l'ha servita lì E' bella così Bella così Va bene signori 3 a 1 Bello pesante Facciamo dei cambi Ormai la vittoria E c'è C'è signori Se perdiamo Se perdiamo Dopo questo risultato Dico Mi dimetto Allora Facciamo uscire Stoccon Facciamo giocare Aladino Aladino Facciamo uscire Wilding Facciamo giocare Piccolo Luna E facciamo uscire Lo zio Sully Tra gli applausi Ed entra McGree Il nostro McGregor Signori Il nostro Luke McGregor Dai Dai Tre sostituzioni Vinciamo Vinciamo 3 a 1 Partita ribaltata Partita ribaltata Buona così Attenzione Attenzione Allora Mel Gibson È andato Mel Gibson È andato a frago E lui ha tirato Da una posizione impossibile Va bene la disperazione Ma tirare da lì Mi sembra leggermente esagerato Davis Clark Kent Il nostro Clark Kent Signori Clark Kent per Kanon Kanon per Aladino 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 Vede il movimento di Giardino Che riesce a toccarla Per Stoccon Che poi non ci arriva Un Cespica Un Cespica Piccolo Luna Cerca di difendere Ma non riesce Attenzione Allora Attaccano Attenzione Allora Attaccano Clark Kent Fa una scivolata inutile Su quella fascia Melone Melone No Melone si può superare ancora Clark Kent Se ne va al bar Se ne va al bar Clark Kent Attenzione Allora Entra in aria Che stava a fare Il nostro portiere Ma porca miseria Dai Ma che respinta Gliela ha respinta Su 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 Ma porca Allora Inizia ad avere paura Signori Perché ho detto Che se la perdiamo Mi dimetto E questa cosa Non deve succedere Questa cosa Non deve succedere Signori E' uscito lo zio Salli E si è persa Tutta la squadra Guardalo Guardalo Ma perché A Giardino Che è completamente Da tutta altra parte Nel campo C'avevi il compagno Di squadra Lì in profondità Che era perfetto Il passaggio Ma perché Dobbiamo complicarci La vita da soli Ma perché Dico io Ma porca Di una paletta Ambriaca Attenzione Clark Kent Non possiamo più scherzare Con i tuoi interventi stupidi Esci portiero 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 Non lo so Il nostro portiero Ma ci ha impiegato Tre anni Per andare In difesa Per andare A prendere Sto pallone 75esimo 75esimo Calcio d'angolo Per loro Battuta dentro Riusciamo a metterla fuori Dai dai No 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 Va bene No Pensavo fosse fuori Sta palla Invece E' dentro Fuori fuori Bello il copo di testa Di Mel Gibson Dai Dai Con calma Signori Attenzione Ancora loro Su quella fascia Melone non c'è Melone non c'è Melone non c'è Mamma mia Meno male Che l'ha staccata Male di testa Signore Era da solo Era da solo Meno male Che l'ha staccata Male di testa 87esimo 87esimo Ce la portiamo a casa Signori Abbiamo bisogno Di questi tre punti Come Come l'ossigeno Dico Ce la portiamo a casa Bravo Giardino Bravo Giardino Bravo Così con calma Bravo Aladino Vai Aladino Guarda 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 piccolo Luna E il piccolo Luna Il piccolo Luna Fa il 4 a 2 E mette Il risultato In calzaforte Nei minuti Di recupero Il piccolo Luna Segna pure lui Bella così Signori 4 a 2 Bella Bella Attenzione A loro Che non perdono La voglia di Continuare a giocare Comunque Tempi Scaduto Tempo scaduto Sì Siamo a 4 minuti Di recupero Su 3 concessi Direi che L'abito Potrebbe anche Fischiare Non lo so Giochiamo altri 45 minuti Non lo so Ditemi voi Giochiamo altri 45 minuti Ah Dopo 5 minuti Di recupero Su 3 dati L'abito Capisce che Forse è loro Di finire la partita Meno male Meno mazzo 4 a 2 3 punti preziosi Fondamentali 3 punti fondamentali Signori Buono così Buono così Ok signori Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Aspettate Andiamo avanti Facciamo una cosa Sì no va bene Andiamo avanti Andiamo avanti Alleniamo questi Sono per ora In Informazione Alleniamo loro Simulazione Vaselà Davis Steven Simone Scott Kanté Magri Va bene Sì Simuliamolo Dai Quanto meno Prendono punti Magri Kanté E il piccolo Luna E anche Il nostro ragioniere Bravo Buono 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 Allenatevi Ragazzi Andiamo alla prossima partita Che è contro Attenzione Giovane che vuole andare via Liam Connor Liam Connor Chi sei Liam Connor Fatti vedere Chi sei Quanto c'è 18 anni Sei un 49 Irlandese Guarda Ti caccio io Proprio La soddisfazione Di cacciarti io La vuoi mettere Degli altri Noi abbiamo Il nostro Questo Benjamin Che sembrava Un gran prospetto Ma mi sa Che si sta perdendo Strada strada Poi Mil Che pure Sulla destra Niente di Particolare Il nostro Strom Il nostro Nord Nord Svedese Sta cambiando Il ruolo Vediamo se promette Bene Pardi Schenko Il nuovo Schenko Signori 15 anni Questo Sembrerebbe promettere Anche lui Bene E poi gli altri Va bene Va bene Signori Giovani Poi li valuteremo Però la squadra Secondo me Sta crescendo bene Prossima partita Contro il Bristol Rovers Che è 23esimo In classifica Noi siamo saliti All'undicesimo posto Con 11 punti E dopo 8 partite giocate Detto questo signori Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao